Immunoterapia Bridge Immunoterapia Bridge Siamo alla seconda edizione L'anno scorso c'è stato l'esordio l'esordio che nasce da un'esperienza maturata dopo sei anni con il melanoma bridge e quello che abbiamo voluto fare essenzialmente è creare un momento di discussione dell'immunoterapia al di fuori del melanoma, anche se però si è parlato molto di melanoma perché rappresenta sempre la palestra dove abbiamo imparato tante cose che poi sono state utilizzate nel trattamento degli altri pazienti affetti da altre malattie oncologiche Si parlerà molto di tumori del polmone di tutti gli aspetti adesso abbiamo anche delle novità in prima linea si parlerà molto anche dei biomarcatori dai tumori al polmone andremo a led the neck dove ci sono delle novità anche importanti dai tumori del rene, gli ureteriali, la vescica e si parlerà anche degli altri tumori dove si inizia adesso a intravedere qualche risultato come l'epatocarcinoma come i tumori della mammella e come i tumori dell'ovaio della servizio uterina quindi ci sarà molta discussione verranno affrontati quelle che sono le tematiche più importanti nei clinical trial di tutte queste patologie e la discussione sarà sicuramente molto importante e come sempre avviene il bridge ci saranno anche nuove idee che stimoleranno la ricerca e quindi possibili nuovi studi è la nama bridge un meeting che è iniziato nel 2010 e che è già la settima edizione è un meeting che sta attraendo sempre più persone che sta diventando un punto di riferimento internazionale a fine anno nel corso del meeting il meeting oggi inizierà la sezione in cui la SIDS la società internazionale di immunoterapia avrà una parte importante dove verranno riportati gli aggiornamenti dell'ultimo annual meeting della SIDS che c'è stata a Washington agli inizi di novembre quindi si parlerà molto della possibilità di sinergizzare la radioterapia con i checkpoint inibitor si parlerà anche di macrobiota e poi ci saranno gli interventi per quanto riguarda le combinazioni le combinazioni di immunoterapia e a finire con l'immunoscore che è stato un progetto mondiale che è stato coordinato sempre dalla SIDS e che ci ha visto anche protagonisti in Italia con un elevato numero di campioni che sono stati considerati a fine della validazione di questo progetto